Il fanatismo religioso, le ombre di presenze demoniache in casa, i sospetti sulla setta e il ruolo di due presunti manipolatori, tutti ispirati da un fantomatico santone, guaritore ed esorcista, che attraverso proseliti online afferma di essere in grado di scacciare il demonio. C'è tutto questo nel racconto della strage familiare compiuta da Giovanni Barreca, un muratore di 52 anni, che ha massacrato la moglie Antonella Salamone, i due figli Emanuel e Kevin, di 5 e 16 anni, ad Altavilla Milicia, nel Palermitano. E così il sospetto degli inquirenti è che il pluriomicida non avrebbe agito da solo. Con lui sono stati fermati Sabrina Fina, di 42 anni, e Massimo Carandente, 50enne campano. Lui disoccupato, lei piccoli lavoretti come venditrice online di prodotti alimentari e cosmetici naturali. Tutti sono accusati di triplice omicidio e occultamento di cadavere e da ieri sono rinchiusi nel carcere Pagliarelli di Palermo. Secondo gli inquirenti, Giovanni Barreca è stato probabilmente spinto a compiere la strage, istigato a uccidere moglie e figli dalla coppia che l'uomo, fanatico religioso, aveva conosciuto in una chiesa evangelica. I tre si incontravano nella villetta di Barreca, ad Altavilla Milicia, dove è avvenuta la tragedia, per pregare. E ancora, sui social, il muratore condivideva solo post di soggetto religioso, così come i suoi complici, che avrebbero avuto parte attiva per liberare la casa e la famiglia dal diavolo, come ha detto Barreca ai carabinieri. I delitti sarebbero stati compiuti almeno 36 ore prima del ritrovamento, come emerge dall'esame dei corpi. In particolare, uno dei figli sarebbe stato torturato e strangolato con una catena, mentre i resti bruciati della moglie sono stati ritrovati nel giardino seppelliti nella terra. Ma restano ancora molti punti oscuri da chiarire. Cruciale per la ricostruzione di quanto è avvenuto in quella casa degli orrori è stata la testimonianza dell'unica superstite del massacro. La ragazza, che al momento si trova in una struttura protetta, avrebbe assistito allo scempio. Sarebbe stata drogata e sequestrata, tenuta davanti ai cadaveri dei fratelli fino all'arrivo dei sanitari del 118, che l'hanno trovata in stato confusionale. Lei stessa avrebbe raccontato di essersi svegliata di notte ed aver visto i fratelli morti e a dichiarare che il padre e gli amici avevano fatto un esorcismo per scacciare i demoni. Liceo artistico guttuso di Bagheria. Questa è la scuola che frequentava Kevin, il sedicenne ucciso ieri dal padre ad Altavilla Milicia. La sirena che suona dà inizio ad un minuto di raccoglimento per la tragica morte dello studente. Volti tristi in pochi hanno voglia di parlare. Un compagno però rivela che Kevin scriveva che il suo fratellino di cinque anni gli diceva che c'erano i demoni in casa, demoni che avevano ucciso e distrutto la loro famiglia. Mi aveva anche detto, ha aggiunto, che erano entrate in casa due persone che se non sbaglio venivano chiamate fratelli di Dio. Una tragedia che ha scosso il liceo bagherese. Tra l'altro era molto attivo, nelle giornate di Open Day si è attivato qua a scuola a lavorare e ha fatto vedere effettivamente come si lavora in questa scuola. Ma i genitori venivano qui a scuola a parlare con i professori? Sì, sì. La mamma è venuta spesso a parlare con i professori. Il papà non si è mai visto? Questo non so dirlo perché non so se effettivamente è venuto. Io la mamma l'ho vista, l'ho vista anche la scorsa settimana. I compagni piangono, non sanno darsi una spiegazione a quanto accaduto. Male. Piangono tutti, sono tutti in classe che piangono e non vogliono essere completamente disturbati. Tra l'altro i primi loro ieri hanno detto preside, anche se era domenica, mi hanno mandato dei messaggi dicendo preside non vogliamo più partecipare a nessuna manifestazione di carnevale. Molto difficile da spiegare. Però adesso con i mezzi, con alcuni colleghi, con l'aiuto di magari qualche psicologo, proprio per spiegare questo evento orribile, tragico. In questa scuola va anche la sorella di Kevin, l'unica sopravvissuta alla follia del padre. Anche lei è molto brava, è seguita a casa, segue le lezioni. E per ricordare Kevin, i compagni di scuola hanno lasciato sul banco un mazzo di fiori. Sì, un mazzo di fiori. Proseguono uniti e compatti gli agricoltori siciliani nella loro protesta che oggi si snoda nel Palermitano con un corteo di mezzi sulla strada statale da Bolognetta fino al mercato ortofrutticolo di Villa Abate. È la Sicilia che alza la voce, quella nata dalla disperazione di comitati spontanei che senza personalismi interni sono stati i primi nel paese a lanciare un'allarme forte e coinvolgente, tanto da decidere di dare vita per domani alla più imponente manifestazione nell'isola, appoggio reale. Andremo dove tutto è cominciato, ci spiega così Lorenzo Giocondo, portavoce della protesta in Sicilia che annuncia anche un intervento dal palco del Carnevale di Sciacca. Al vertice delle richieste è la proclamazione dello stato di crisi nazionale che gli agricoltori siciliani condivideranno, partecipando peraltro numerosi all'appuntamento nazionale di giovedì a Roma, al Circo Massimo. Saremo circa mille, continua Giocondo, e di ora in ora si stanno aggiungendo presenze. La forza della protesta si accentua anche alla luce della convinzione da parte degli agricoltori siciliani che dalla politica nazionale, così come da quella europea, non arrivi null'altro che dichiarazioni propagandistiche. Sono dei geni, la politica è geniale, la conca d'oro è tutto abbandonato. Da Roma, dove sta partecipando a incontri che puntano anche alla strutturazione dei comitati spontanei in una forza organizzata, Lorenzo Giocondo non dimentica le promesse vane del ministro Salvini che aveva sbandierato il no all'importo del grano canadese. Solo parole al vento, tristemente, dichiara. Lacrime e silenzio per un'intera comunità sotto shock. Non c'è stata nessuna festa di carnevale oggi a Niscemi, ancora sconvolta per la tragedia di ieri sera in Contrada Ulmo, a poche centinaia di metri dalla base americana del MUOS, nella quale ha perso la vita Salvatore Leonardi, un giovane di 30 anni, morto dopo essere precipitato in un pozzo irriguo profondo una quindicina di metri. Salvatore, che avrebbe compiuto 31 anni a settembre, stava passeggiando, come spesso faceva nelle giornate di festa, in campagna con Ares, il suo pitbull, quando per cause ancora da accertare il cane è caduto all'interno della cisterna. Il giovane, nel disperato tentativo di recuperare l'animale, non ci ha pensato due volte e si è calato all'interno del pozzo, restando però intrappolato nelle acque gelide. Un amico, che era in sua compagnia, ha subito chiamato il 112 per dare l'allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco, del dissaccamento di gelè e anche il nucleo sommozzatore di Palermo, ma quando sono arrivati i soccorritori, purtroppo era già troppo tardi, a causa dell'ipotermia, a causa delle basse temperature, Salvatore non ha retto, ha cercato di aggrapparsi a qualsiasi cosa con le unghie e con i denti, ma è finito verso il fondo, annegando. Le operazioni di recupero si sono protratte fino a tarda sera, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti del commissariato di polizia. Salvatore amava profondamente Ares e non appena lo ha visto in pericolo, non ha esitato un attimo e ha tentato di raggiungerlo attraverso un grosso tubo della pompa di collegamento, ma poi è finito all'interno del bacino idrico, andando incontro a un tragico destino. Il giovane ha resistito qualche ora, ma poi, stremato dall'ipotermia e dalla fatica, il suo cuore ha cessato di battere. Ares, invece, dopo quasi quattro ore è stato recuperato e messo in salvo dai vigili del fuoco. Sta bene ed è tornato a casa, dove però non troverà più il suo amato padrone. L'intera città, intanto, è rimasta sgomenta per quanto successo a Salvatore. Tutti sapevano del legame profondo che lo legava al suo Ares e da quando si è diffusa la notizia sui social sono stati postati centinaia di commenti, non solo di amici e conoscenti, ma anche di diverse associazioni animaliste del territorio che hanno voluto rendere omaggio al gesto eroico di Salvatore, che ha sacrificato la sua vita per salvare quella del suo amico a quattro zampe. Il popolo di Agata, così familiarmente chiamano i devoti la patrona di Catania, si è riunito in cattedrale per riabbracciare la Santa. L'emozione dell'apertura del sacello e l'esposizione del busto reliquiario della martire si è rinnovata stamattina, giorno dell'ottava. In Basilica, dalle 7.30, è un susseguirsi di celebrazioni liturgiche, l'ultima alle 19, con la processione in Piazza Duomo. I devoti sono tornati ad indossare il sacco bianco, ad offrire fiori, candele e le varie preghiere. E dopo le restrizioni dovute al Covid, possono venerare e baciare le reliquie. È l'ultima giornata delle festività agatine di febbraio, poi l'appuntamento con Sant'Agata sarà in agosto. Saranno mesi carichi di attesa. I devoti devono dire a se stessi, davanti al saccello di Sant'Agata, ma anche nel segreto del loro cuore, nella quaresima che sta per iniziare fra due giorni. Ma la mia vita è cresciuta grazie a Sant'Agata? Ho vissuto solo un apparente, se poi ritorno ad essere come prima, o forse peggio di prima. E anche quest'anno l'Accademia di Belle Arti ha voluto dedicare una mostra alla patrona di Catania con le nuove icone contemporanee realizzate dagli allievi ed ex allievi. Si chiama Agata in movimento. Allestita alla stazione metropolitana Giovanni XXIII è visitata per la prima volta dall'arcivescovo Renna. Ritengo che una metro qualifichi una città, la faccia diventare più città, perché facilita i percorsi, riduce il traffico delle auto e permette di raggiungere dei punti importanti. La metro piace, soprattutto ai giovani. Sono loro a Catania che mostrano di gradire questo mezzo di trasporto. A rivelarlo il direttore della FCE, Salvatore Fiore. Questo è anche frutto, lo devo dire, delle convenzioni fatte con l'Università di Catania, il Comune di Catania del Policlinico e poi l'iniziativa del Comune di Catania di Catania e Tugò che ha portato molti catanesi a poter avere la valenza di provare la metropolitana e capire la grande valenza che può avere a muoversi con un sistema di trasporto rapido di massa come la metropolitana. Fiore annuncia l'imminente apertura di nuove tratte che collegheranno le periferie. Adesso siamo in fase di apertura di due importanti fermate che sono quelle di Fontana e Montepò che collegheranno Fontana e l'ospedale Garibaldi con la metropolitana e poi Montepò, il quartiere di Montepò, che darà la possibilità a chi abita a Montepò di poter avere un sistema di trasporto rapido di massa che collega il quartiere col centro urbano con una frequenza di 10 minuti. E più o meno i tempi? I tempi sono quelli di marzo-aprile, siamo lì. Affollatissima nei giorni dei festeggiamenti Agatini. 220.000 ai viaggiatori che l'hanno utilizzata per spostarsi. Il 50% ha acquistato lo speciale abbonamento Agata Ticket di 5 euro. Se si fanno delle politiche per la mobilità sostenibile, in questo caso una politica tariffaria, fortemente vantaggiosa con quella che abbiamo fatto per Sant'Agata, la gente è più provenza a lasciare la macchia e prendere il suo pubblico. Ettari ed ettari di terreno a secco, dalla piana di Catania al Calatino, e non se la passano meglio le campagne del Siracusano e del Ragusano, dove si producono la maggior parte delle angurie siciliane. L'allarme siccità rischia di azzerare persino la produzione dei cocomeri, il frutto per antonomasia dell'estate. Basta osservare le immagini per capire la drammaticità della situazione. Di questo passo e senza pioggia, l'attuale raccolto si attesterebbe al 25% rispetto allo scorso anno, quando furono prodotti un milione di quintali di angurie. Un meno 75% che non fa dormire i produttori, a cui non rimane altro che affidarsi al cielo. Sperando che il cielo, il Dio, il nostro Dio, che ci aiuta a questa agricoltura siciliana, che siamo a collasso. E' una danza della pioggia perché aspettavamo questa pioggia di ieri, di ieri, di oggi e oggi, con questo sole non abbiamo avuto completamente pioggia in questa piana, nel Caladino non abbiamo nessuna pioggia completamente. Nell'immediato preoccupa anche la seconda produzione di carciofi, prevista a metà marzo. La seconda produzione di carciofi è compromessa perché i vasi siamo al di fuori dell'acqua, non ci abbiamo acqua per fare l'irrigazione e abbiamo questi problemi perché la seconda campagna di carciofi non la possiamo fare. Soprattutto nel mese di marzo, fino ad aprile, sotto Pasqua, abbiamo difficoltà ad avere un prodotto bello, eccellente, come quello del calciofo dell'Etna. Rametta sollecita l'intervento della regione, che al momento è silente. Ancora la regione siciliana non ha dato nessun supporto, nessuna cosa, ne ha chiamato neanche a me, che sono uno dei primari cocomerai in Sicilia, che faccia angurie e siamo in difficoltà tantissima. A questo punto solo Giove Pluvio può salvare le angurie e di conseguenza l'estate di milioni di siciliani. Ministro, un prodotto di nicchia, il pannello bifacciale e la concorrenza cinese, che futuro c'è per questa Tresan? Questo è il futuro, perché noi abbiamo previsto, nelle prossime settimane, l'approvazione del piano Transizione 5.0, che serve a rendere più competitive le imprese italiane nel campo del digitale e della tecnologia green. Il ministro per le imprese, il Made in Italy, Adolfo Urso, ha visitato oggi la Gigafactory Enel 3Sun a Catania, un sopralluogo a distanza di pochi giorni che fa seguito alla visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, come dire, il governo qui c'è. Il ministro annuncia un investimento da 700 milioni di euro tra risorse di Enel, dell'Innovation Fund e del PNRR, che porterà alla realizzazione della fabbrica, che raggiunge un miliardo considerando anche i costi operativi. La Free Sun a Catania oggi, di fatto, per il tipo di pannelli che produce, ha difficoltà a stare sul mercato. Per evitare che queste risorse vadano soltanto ai pannelli cinesi venduti sotto costo, quindi con dumping in Europa, ci stanno invadendo, noi abbiamo creato nel decreto energia una norma che prevede che l'Enea stabilisca dei criteri di qualità, così che gli incentivi pubblici vadano a quelli pannelli fotovoltaici che siano più avanzati. L'idea del governo Meloni è vincere la concorrenza con un polo innovativo che potrà beneficiare anche di un sostanzioso credito di imposta. Catania da tempo è avviata su questa strada del polo digitale e di tecnologia green. E in questo caso lo è stato anche quando con Lungimiranza la loro sindaco pogliese, la loro assessore Enrico Trantino, riuscirono a creare le condizioni perché l'Enel investisse qui piuttosto che in altre zone d'Italia ed Europa. E io posso già annunciare che tra qualche mese avremo altri importanti insediamenti qui a Catania, sia sulla tecnologia green di cui lo stabilimento Tresan è sicuramente la punta di diamanti. C'è tensione politica all'interno della sua maggioranza? Oggi comincerà a sentire un po' i partiti? Che cosa succederà? No, già ho sentito, oggi finisco, non c'è tensione, sto facendo così, degli incontri bilaterali per insediare un attimo delle regole, anche se il voto segreto dell'Assemblea regionale è un voto senza precedenti, non presente in nessuna regione. Andiamo avanti serenamente, ho trovato questi incontri bilaterali molto utili, trovo pieno volontà di sostegno al governo, anche perché siamo chiamati ad adottare anche dei comportamenti importanti, il Ministro di Cattaneo ha dimenticato a proposito dei ricassificatori di ricordare, il Ministro Urso lo ringrazio, di aver inserito in questo decreto una norma che consentirà al governo regionale di poter realizzare con più velocità i ricassificatori. Le province ormai se ne parlerà quando il Governo nazionale e il Parlamento nazionale approveranno questa riforma, allora torneremo a parlare. Fino adesso, ormai era capitolo chiuso, siamo tenuti al rispetto delle regole, alla scadenza dei consorsi, dei commissari che avevamo prorogato, si parlerà di legge del Rio perché siamo tenuti a farlo. La vecchia società sotto sequestro, duplicata in una nuova almeno di facciata che si occupava di assistenza agli anziani, questa la truffa scoperta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Messina e messa in atto da un commercialista di Reitano, Michele Nigrelli, di 63 anni, che già lo scorso anno era stato destinatario di un sequestro record da oltre 12 milioni di euro. La nuova società, una casa di riposo, infatti era intestata formalmente a soggetti terzi compiacenti e di fatto replicava un'altra cooperativa posta sotto sequestro. Stessi locali, uguali anche alcuni dipendenti della cooperativa precedente che erano stati assunti dall'azienda sottoposta a sequestro. Nel corso degli accertamenti sono state individuate due imprese operanti nel settore edile e della consulenza fiscale, ritenute riconducebili sempre alle commercialiste in quanto il loro capitale sociale, è risultato detenuto anche dai familiari di quest'ultimo. Anche queste due imprese, come la prima, sono state sottoposte a sequestro per un valore stimato in circa 200 mila euro. Il sequestro dello scorso gennaio aveva interessato invece sette attività imprenditoriali attive nei settori degli studi professionali, della lavorazione della ceramica e del vetro, edile, di assistenza a favore di anziani e disabili. 25 fabbricati, di cui due appartamenti di pregio nel centro storico di Palermo, terreni, un'auto e rapporti finanziari. In una stagione nata male e che si spera migliori, il Catania incappa in un'altra partita sull'altalena, anche emozionale. Gioca il primo tempo senza creare quasi nulla, resta in dieci e paradossalmente meriterebbe di vincere la partita. Alla fine però, i tre punti non arrivano da un mese e la classifica l'angue. Ci possono essere tanti motivi, noi lavoriamo per cercare di risolverlo, è chiaro che non è un momento facile per i motivi che sapete. L'altalena è anche fra il pubblico, le curve protestano, la tribuna applaude per il secondo tempo che dopo il tiro finito fuori di un niente di Chiricò regala le emozioni più grandi. Si parte con l'espulsione per doppio giallo per Sturaro, si arriva fino alle occasioni in serie che spalancano la porta alle riflessioni. Venturi è il migliore in campo, ma in attacco non si possono fallire possibilità simili. Cicerelli soprattutto, ma anche Di Carmine è comunque sempre pericoloso. Meno Costantino che a Picerno si era divorato due occasioni e che invece pesca bene l'angolo con la casertana, trovando il riflesso del portiere. Ecco, questa tendenza a non concretizzare va cambiata anche in vista del ritorno di Coppa Corrimini. Sturaro ha fiducia. Questa squadra io l'ho vista, la guardo da metà dicembre. Spesso da tifoso ho visto una squadra fragile. È una squadra che può prendere gol in qualsiasi momento, che ha preso buchi in qualsiasi momento. Ecco, questo secondo me non può accadere. Oggi il primo tempo è stato così. Noi siamo alla ricerca di questo, dobbiamo continuare su di questo e poi da questo mettere dentro tutto il resto. Il lavoro è tanto, ma abbiamo voglia di fare. Ad Avellino il Messina ha messo un punto fermo nella corsa salvezza, ma non solo perché alimenta il sogno play-off, inatteso ma legittimo per i numeri di una classifica senza precedente. Negli ultimi sofferti campionati di Serie C. 8 punti di vantaggio dai play-out e 4 di ritardo dai play-off dopo la brillante vittoria di Avellino, la quarta in 5 turni. L'ha firmata un protagonista sorpresa nella metà campo avversaria, quel Marco Manetta, che in una domenica di assoluta emergenza ha guidato il suo reparto con esperienza e concretezza. Difese e contropiede nella partita del Messina, che ha sofferto tanto. Quando è servito ha fatto le barricate, ma ha creato le occasioni migliori, una su tutte, quella clamorosa dell'ex Plescia, che non ha ripetuto il gol decisivo dell'andata. 1-0 comunque il finale, come lo scorso 1 ottobre. I giallorossi raccolgono sei punti contro i campani e si avvicinano all'obiettivo. Modica ha speso parole di elogio per il suo Messina. Sono stati bravi i ragazzi, veramente mi stupiscono sempre di partita in partita. Adesso stiamo facendo una bella striscia positiva di risultati, hanno acquisito una grandissima e sana consapevolezza delle proprie forze, delle proprie qualità e la cosa più bella è che lo si vede dentro il campo che a me fa un piacere infinito, che li vedo divertire attraverso il lavoro e che dentro sprigionano empatia tra di loro. Mercoledì si torna in campo per un turno infrasettimanale. Al Franco Scoglio ci sarà il Sorrento. I numeri dicono che non si giocherà soltanto per la salvezza.